Una disabile è stata scippata in piazza della Repubblica in pieno centro di Eboli nella serata di ieri. La donna era in compagnia del marito quando è stata avvicinata da un ragazzo il quale dopo numerose richieste di denaro rifiutate ha strappato la catenina d'oro che la donna portava al collo. Il giovane, residente ad Eboli e già noto alle forze dell'ordine, ha provato a fuggire venendo bloccato pochi metri dopo da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale compagnia. È polemica intanto sulla sicurezza in città.